Una cosa, questo sistema non si è costruito da sé, questo sistema è frutto dell'approvazione di trattati, Maastricht 92, Lisbona 2007 e questi trattati a me risulta che non ci sia stato, per quello avevo questa perplessità quando facevo il discorso prima su Forza Italia eccetera, non mi risulta che ci sia stata una forza politica in Italia che vi si sia opposta, cioè che ce l'abbia, ma se me lo dicevi prima, diceva Chiara Gaber, non mi lo gli annacci, ma se me lo dicevi prima, chi ce l'ha detto? Cioè in vent'anni, posto che hai ragione, che è un sistema demenziale, che il 3% è demenziale, che il messa è demenziale, che il fiscal compact, ma è possibile che in vent'anni, di questo io vi accuso e accuserei i politici, non tanto del fatto di essere a volte ladruncoli, a volte corrotti, che quella è una cosa che purtroppo in politica c'è, ma di non aver in questi anni, di non essersi in questi anni opposti a ogni singolo passaggio, perché in questa Europa manicomiale ci siamo arrivati e sono stati firmati dei trattati all'unanimità, a cui non si sono posti e non si è posto nessuno, molti dei quali oggi si lamentano, e che ti lamenti? Ma perché l'hai fatto? Perché non hai cominciato? Ma non sapevano neanche l'effetto, secondo me...